Nell'auditorium della RAI di Napoli si è tenuta questa mattina la conferenza stampa che ha illustrato le linee ispiratrici, le scelte e il palinsesto della prossima stagione televisiva. Alla presentazione hanno preso parte anche il presidente della regione Vincenzo De Luca e il sindaco Gaetano Manfredi. È una cosa importantissima, è la prima volta che si presenta il palinsesto nazionale RAI a Napoli, è un riconoscimento importante per la città ma soprattutto per la RAI di Napoli per il ruolo che questo centro di produzione ha avuto e dovrà avere anche in futuro. La RAI è la più grande industria culturale d'Italia, avere questo punto così importante e così produttivo come quello di Napoli per noi è un fondamentale, quindi scelte di investimento in questa direzione le sosterremo molto e rafforzeremo anche la sinergia con la Mostra d'Oltremare. Per l'occasione sono stati celebrati i 60 anni del centro di produzione RAI di Napoli con uno speciale annullo filatelico. Noi mettiamo a disposizione Mostra d'Oltremare, quindi questo consentirà di continuare sia le produzioni che sono in atto, sia quelle future che sono previste a Napoli qui senza delocalizzarle durante il periodo di ristrutturazione dell'auditorium e dei lavori per il centro di produzione e stiamo lavorando a un accordo più strutturato per fare in modo che il centro di produzione della Mostra d'Oltremare abbiano una forte sinergia quindi nella gestione di spazi comuni e anche di infrastrutture.